ciao 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 stai lasci dai bravo eccomi grazie ma si non mi stai 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 sp stai 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 a te veci od ono mogu nemmo te nemmeno vrate od ono per te da cinque a misli da 4 nemmeno olo olo ubijen ubijen ladan odo kaste belenap izviliš to še mona ima drade ma no kontrš pami še morom kontrš kontrš nemmeno olo 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 Scusate, scusate, scusate. di essere a te wow travesco l'atastronomica ii a bravo si mora amici in verso chi non piste è normale ma ne mogo brate vi da mogli la cosa da l'esmo e lavo se mikrofon Sì. Prato sei in che giversi tutto. Che stai, servite me to? Perché non mi sto poveggendo. Tutto bene le cose. Gio, giole. Gio, giole. Gio, giole. No, 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 no. Bratti, anche come si faccio un nuovo video. No, 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 no. Vero, ilan za polo sato. Sì, come si. A, laki daj' mani tu Coca Cola. Sipa. Sipaj me, bratele, mogući. Bratele, prošlo. Pardon, ne citi. Ajde, nije tolko loše, samo klapamo one elikove. Može da uđeš kod nas, odno, sad. Dobro još. Ajde, provam. Ajde, l'ivajte, neće. Ajde. Ajde, bratele. Vase, ko ti TV rope. Še za sinčo blu. TV ogroman, a ja... TV ogroman, a ja mu se približio da mogu da se trurim iš. Kakav si mor, brate. Vase, kako teško vidim. Kao bios, kada sedaš na prvi redi. E, kako vidim. Papirom. Zim tako, kako vidim. Uff. 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 Hehehe. Prat. Prat. Velk je se izživljava na ove likove. Varno? Prat. 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 Sì, ti chata? Padolk C'è un'esplice, brate, non c'è che mi doggio strumento C'è un'esplice, non c'è un'esplice Non, non c'è un'esplice Non c'è un'esplice C'è un'esplice, non c'è un'esplice Non c'è un'esplice Non c'è un'esplice 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 Ben vede, brate. Hai se li ziua? Sò è sto il frate. Oh, brate. Sono secu' Mo ci rezi ziole, brate. Sì. ... 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 A tu je, svazio si sa Lazarom. Uff, è molto batterio, è talo. A non è ma, ma è il mio. Ova slika, ova lozza. Kao è beggi? Ehm... Sto tu? Alla cosa, napravio... Ok, napravio sam... Oblijepio sam ga evo, sad se puni. I dezinficovo. Dezinficovo, ma to je najace. A što ću vrati? Mora, mora. Negò što? Ako hoci po kući da ga vozi, moram ga dezinficovi. Ma non bi mogo po kući da sami da ga vozi. Ma to je najace. Ne nego, što su na ozvišenja, brate, to mi ne bude. E pa to meni, ja ih imam ali, ono, malo i sređeno. Tako da ono... E pa meni, ne, i to da znaš. I naučio sam kako da ih prelazim, samo... Guraš jednu nogu i onda drugu. Pa da, 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 mislim mi dešu te mala, ali... Uuuu! E! 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 To je mala razredina. Da, za to mi je u početku to bilo najveći... Problem. Najveća noćna mora da prelazim iz moje sobe u hodnik i tako to. Ne, brate, kako su. E? On pati se još nije uradio domaci. A... Uratio je ono... Kako da njega boli u uvijsko. Umrao sam petri gina od henčmena, znači henčmene moraju da nerfaju praći. Znači, nije do mene. Ja ga hedem, ja obijem i desa, ništa mi ne skine, daj biđa tuđi mi henčmen iz lejzera me. E, to onaj s miniganom, ja pobizim. A, pa, ne, makro sa miniganom, ali ovi s emkama, dva hedda mi je dao, izbildao sam, piket sam je zid i odmah krenuo sam. Čovke, znaš koji cent koristim? Onaj 800 DPI-a, 800 DPI-a, ovaj, 7 cent. I ja ga sam koristim. Čovke, aj mi, čovke, aj mi reci tvoje, ove je build kontrole. Šta ti je, ovaj? Hoću da stavim sad, da edite mnoho, brate, da te poslušim. To je to, epic pump, ješ? Ne bi stvarno trebalo sad, ako su se navikao, brate. Ako su španavala, brate. A lagano, ću se navikao, šta ti je. Ja sam suha. Da. Ja ne znamo. Ja ne znamo, ja se resetam. Čekaj, 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 šta da stavim na... Da poručum na šta da resetam? Aha, znači V. To ti je najjača stvar, samo što ja nisam mogla se navikao na to, tad mi se nije igrao creative i nisam se ne igrao, brate, da ću to nastaviti. Reset. Reset. A te nije čove, što je, ja sad skrovo vilom, prebracuje moro žene, sad. Jo, nikad, brate. Ja sam da priradiju, čovke mi je došlo i rekao, nemojte, o ti pogrišava, igraju, tad to ne ne. To tad ću mako škrovo gleda. A da vam, to mi se nikad nije desilo. Evo ga, save. Uuu, koliko bolje resetam, čovjeku, brate, znaš što je to? Tada, mogao oš, ja znam, znam, vidio sam, u čime... Ja sam već u namiku, iskreno, samo da namikam za piramidu. Ja lako se namikavam, ja sam za jedan dan naučio sa kim mogu da idu, brate. Samo piramidu da naučim. A u da, ja zaboravim da je na tu. E, ja mislim da ću, znaš što ću ja doraditi? Stavit ću i g i v. Pa ako nekad zaboravim, slučno pritišem g ono, kontra. Neću, neću. Ima, imam šest bombe, imam šest bombe, tamo su svi. Tamo su svi. Jako, što ću sad da im uradim ako su svi tamo. A streamaš, jel? A ti streamaš, jel? E, možda nekad reći kad streamaš, ne? Da se ne gubimo. Jesi, no svaki put ti kažemo, a ti streamaš svaki put. Reci sad. On nasubiš joj, samo počne streami. Vidi koliko ih je, što ću da im uradim. Šest kilova, najmanjega. Ja imam samo pampu, bukvalo, nisam je luku. U, minika, nešto ću da im uradim. A vidi, sada si poj sve ubiti. A vidi, on ih i dvajesto ubiio, ma on je stvarno. Ko je ubiio? Daj. A on, ko? UČje, 69 i je Skype. U, 23 i Skype. A bra, on je ubiio deset likova sam s ta šotkom. Ta isek kakani. Baš. A, on je ma šance, brate. U, 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 u. Koliko sam uzapio hateru? U, 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 u. U, 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 u No, non è il mio giusto, non è un giusto Non è il giusto Rupi, rupi, rupi 2S 2S 2,4, 2,6 il giusto il giusto no no a da 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 c'è da l'acqua, abitam Fai a non capire! Abitam da li pucam, non so che voglio da li pucam Abitam? Uuuu da' la l'amera! Abitam, ok! Perciam! C'è? ma c'è una cosa? Donde voi fare dei stream? Non, veramente. Non si guarda. 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 Non prende la sua, non può prendere la sua, nessuno prende la sua Pagani su se i pomerili, perché non riesce a mantenere la sua server Perché non riesce a mantenere la sua server? C'è? allora ma siete più bucati e come uvecchi puke cosa da fare come? chiamo che umrano l'abbiamo non lo devo non ho bisogno non è proprio più buco non è proprio più buco non è un uvecchi puke non è l'abbiamo non è un uvecchi no risporam se vissero su sorghi max ma 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 già da giù c'è Sì, c'è Babà? Rek' taj nubic è pubic è! Es... Nii, a... non è vero qui Ovolgo E' a me ne puca lì Caracca Prtav Ma che, a non ho meni, non ho meni Non ho meni, non ho meni Prtav, c'è un E' a gravi, non ho meni E' a me sa E' a me sa Osta'o još jedan sa minigunom Ubi'o sam 20 Glendajte na ove Glendajte na ovo gore Ovamo, dje, dje su kao zvučni Ubi'o sam Brato, rato dobijam landu, ja su no gun bro Prtav Ludi Očete bitvi u ovom game, vidim ja da jedem O, očete bitvi, stiču ad eventa Ezz Ludi, vidimo se Ubi'o da jedem Vrk, ne vrk su se papili Ludi, sliču ad eventu Agh, li da sem si Na remove'o n Hani ha na sari su da Vrk, na da sem si papili sa famos Da, ja sa gest lasers impact Urklk, nawet . . . . . ecco C'è tutto il tempo che tu ti fai Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno di 90 C'è nessuno di 10 secondi Tu devi farlo da im prendere i prendere i prendere 300mg per la SMG Passi su vado, siamo morti e ubbiamo E noi stiamo a uscire il giallo E ora non ci siamo a vedere quando ci sono Non posso uscire il giallo ognuno ti metto ti metto un gaiante bravo, ti metto, ti metto ti metto un po' tutti i bravi E' un'altra parte, e' un'altra parte. Ah, non mi piace. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sì! Gatti! Sì! 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 Riedi! Sì! 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 Corso né, vero? No, no, come brano One, come brano, a cigarra C'è qualcuno? O, ci sono quattro no 2 danza mi muo bec uber I fai on a island 20 likov è il caso di che mi hai vissuto non c'è l'arma il ragazzo non c'è il punto io non c'è il punto il punto di più 3 sono in grado non c'è la c'è adesso non c'è la cazza me mi 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 No, non! Quindi, come ti toglieri 3-4 volte da mi sono suoi setup? Beh, come ti toglieri 3-4 volte da mi sono suoi setup? Beh, beh, beh! Beh, beh, beh! Non bi lo ubiare ogni volta, è quello che ha detto. Non bi lo ubiare ogni volta. Non è lo ubiare ogni volta ogni volta, Evo ga! Evo ga on! Ale si tu? Tu sam brate moj! TOLK SHIT o tebi pono! Ha! Baj! Ma ne vi ko si! Ja tačno crecem TOLK SHIT o njemu! Reko ne bi me on ubio na moj gomme Svaki drugi put! A dolazi on! Vidim crece se ja kuću u to! Dobro, che ogovare no max! Ne govaram nego si me ti ne ziraš! Ja bi tebi ubio svaki put! Ti ne znaš da igraš! A bi sigurno brate! Ne svaki nego svaki treći! Svaki drugi treći biberat! Odboga mi ne biš! 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 Nemaju to upit njim! Ali, to je komp! Nećeš ni ti brate, kad kupiš komp! игрati na... Ne znam, nja šta... U tolong! Napiš li je to savici.. Io posso 102 FPS per le poter farlo E 102 FPS per le poter fare E poi fino a 124 FPS per le poter fare E questo è stato 102 FPS per le poter fare E questo è stato un testo che è stato stato un persino Un testo che ho fatto il senso Un testo che ho fatto 144 FPS per le poter non c'è non c'è non c'è non c'è 0 mazza a farmo SILI GAME non c'è 1 milione 10 7 7 7 7 6 7 8 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 10 12 12 12 13 14 12 14 14 15 15 15 19 Ah, non ho capito! Au! Zabalo! 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 Shit on! Shit, bre! Upa, io sono levo! Stanghi! Ah! Ah! Oh! 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 It's a gas! Oh! Oh, oh! Oh! non posso fare 300 non mi sembrava, non mi sembrava, è bello eccoci eccoci ah! l'ai un'intensitività! sai un'esplice? to ti è un'esplice eccoci 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 è ok osmoreno alla eh eccoci 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 Sì Non c'è l'intensitività Sì 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 200FPS ho ho il evento Non c'è brato Kezz da mi rade da slavio Sì 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 160 200 50 50 50 Super Brate ono je končan To Koran To Sì 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 Sam Settings Intensitività Sì Ta Ero! Ero! Gio, perro, salto! 3...4... Sada! Ero! Ero! Buono! Ero! Uviamo ora! Sada! Cosa! Ero! 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 Siamo ancora con 2 secondi! Ma non è vero! Ero! 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 Sì Ma questo è un evento come tutti gli altri Sì 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 navigate Sono ora Non CORREC lo Non si Cosa Cosa Il Lé Mi ha fatto un po' di più. Mi ha fatto un po' di più, quindi mi ha fatto un po' di più. Pero, ecco me! Ora quando ci partiamo, ci staciamo. 3, 5, stop! 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 3, 4, 1! Evo' il! Evo' il! Evo' il! Evo' il! E' il. È il tempo. Evo' il! Evo' il! Evo' il! Evo' il! Sì, no, 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 no. Non è così, non è così. Ecco il resto, come il nostro. E' così. Oggi. Come bello il topo di live. Non è vero, non è vero. Non è vero. E' vero? E' vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. E' vero. Ah, non è vero. Non è vero, non è vero. I' o O iniziati a capi. E' il mokasule. Ah, mi ero lato! Da, ero lato! E boviš davvero? E non si è uspio! Evo ga, evo ga, evo ga! Evo ga! Nooo, guardiamo un pozzo! Evo ga giuole! Evo ga giuole! Evo giuole! Evo giuolo! Dozi, dozi! Petro, evo te! Pero, ispod mene, guarda ispod! Guarda ispod, guarda ispod! Ispod sebe, guarda! Pero, evo te! Nisi, dje si? Pero, pogledaj nazad, ize sebe! Pero, gledaj, evo me! Evo te! Dođete, pikiksem, plebaro! Mrtav si, mrtav! Baže, druže! Mrtav si, pikiksem enom! A, brože, druže! Znače, evo me, drago! A, protesto! A, zajedno! 3... 4... Sad! A, ne, ja somi slujum! A, izdijelom na dio, gredi! No, i zan. Evo, grazie, grazie, grazie. Evo, onore čeo di. non è come il prossimo, direi che non è come il prossimo guardate a me, non è come il prossimo per la prima volta, per la prima volta eh, vediamo che c'è la differenza io volevo prendere l'Happy Hamlet ecco me, ecco, ecco, ecco ecco, ecco, ecco ecco, ecco, ecco ecco, 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 ec E' meglio che qualche curioso! L'eono di poter�are la ricche! Oti è che un errore di più. E ci voglio proprio di farlo. E' anche così si senti in mano! Ok, ok, è un numero! E' qui il nome adesso! Talk time! Ho. Ho il tempo io sto! Non ho un'hypede per questo event! Non ho, non ho! Non ho il tempo, fratello! Segu别 tra Federico, vuoi raccordì un requisito con me. Ti verbano, questo è il nostro video cui intimo! Dupe quando mi ossiamo le skin. Gl 드sci campo io ok Ilämä è il miro. Guardi il mio là suono! Io ho lettere in un piede! Io ho leggesi! Io sono finito solo per il piede buti! Sì, Rohite! Io sono finito al piede sul понять! Io ho tratti, huntemmi! Ho i jugo! Sve LEDsno mi rim колbe io ho scusato come vedo oh no ah uvite bra io ho scusato come vedo non vedo io ho scusato e io ho scusato come vedo come vedo adesso brate ah da ovo è stato come vedo come vedo però ecco 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Evo, evo, evo ga. Oh, raggio. Evo, evo, vediamo Giulietta. Siamo qua dal l'ho. O mio è salio. Evo giù è l'albo. L'uudi, ovo nisi Steven, non è così. E morano si magari un po' cambiare. Ovo su sezio. Sì, ovunque. Sì, ovunque. Bilo bi sporo, brate, da imaju mape dvije. U pubog imaju dvije mape da bereš koju ćeš degati. Sì, sì, sì. U me è to super, brate, dvije mape. U me è to super, brate, imaš dvije mape. Bilo bi sporo da ima dva osteraka. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Bilo prevelika, jel' da. Mhm. Jedin'o kada se podijeli na dva dielo, ili da... Ili da bila... Ili da ima solo jedan more, to je bila fora. Al' bi bilo malo prevelika, mape, i trebao bi više game, previše. Al' dobro, to' ok. Bila bi fora, ostervo, da je ono, u agenciju, sada je to ostervo, veliko, da je ostervo tu, i da je okolo sve voda, kao je, ono, šta nam to. Mhm. 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 Ja nekondimam sve ova lopita, znaš? Oh, kao, ono, balcita. Portafort. Onaj veliki. Mhm. Ja čekam zadnji vent. Ja čekam zadnji vent. Jel'o? Ja čekam. Ja čekam. Bog. O, 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 o. Ja čekam se napraviti stilo. Gledajte, sve si kod vas. Tada leptira, ono, leptira. Da, 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 da. Evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga. To je rift, javni sam. Dobio mi se napraviti. Da, 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 rift. Vratiti će se porta fortu. Vratiti će se rift. Sada, ovo je kao leptir, ali i liftu isto vremena. I bro, ja sam moram dumnom u vodu. Ajde, livajte ljude. Ne vrate. Ne. Šta ne ovaj kraj? Pa, pa ne vesa, ajde, nemoj livajte. Sad će... Moramo se čekamo malo dok se ne vrate, veno. Neće ti se sve sad vratiti. Ima jedno deset minut. Meni je iskrivljen ekran. Evo, ovo si sve dobro završao, zve še. Iša. Iša. Pa ko hoće da igra? Ljudi, vidite li gdje sam ja? Vidite li gdje je mene spavnalo? Da, brate. Ovo... Mene, na kraj. Meni u zonu. Smimila sam video. Šta mi djelaš? Kad smo mi to sve izrendili. Ja livo! Vidio klip se. Ne. Ješ livo? Da. Okej, ja sam. Evo ga, evo ga, sam možeš livo. Ja nisam. Ja nisam. E, bravo, ja sam livo, brate. Oko na vas. Sprdam se, evo saču. Pa ko si livo? Samo da izbildam. Evo. Meni piše za 70 sekundi. Kunem ti suđe vidi. Peni za 60. 50. Znam, znam. Meni je pisavala neko ko se uštije. Gledam da mi je prošlo. Ne. 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 Dobija se to, jadam, to se kupuje. To je jedan kabal, brate. Eee, iz toga ubaciš u Sony i mnogo bolje. A kak je to tako? Žale, to se kupuje, to se ne dobija. Neki čudni, ne razi baš tako. Aj, stvorimo se. Odakle? Evo. I ti se stvorimo. Ajde. Evo me spurnalo me normalno sad. Ali imam se 10 sekundi. Mi me otvaramo. Ja se mogu, samo ću snajpem jednog lika. Evo taj. To je internet. Možda bi ne zdobila taj. Jeste, ladno. Ima lan kabal. Znači, celke je z internet se dobila. Hvala. Možeš mi ga dati? To je što ja ne mogu ga pravoć. Malen je. Ali odavde, dovde mogu, sigurno. Stop. I znate... Ne, če je dođo stopat. Ne, 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 ne. Stop, sam izredno kog će bih pisa pinka s moj lan kabalom. Jebeš, pink 10, 20, manje, više. Jebote, tebi treba no delay. Evo ga skvats, ja sam stavio. Aj, Livaj. Samo, na sekundu da stajtam. Deset, devet. Aj, čuži, kamjeno odbrojava. Još upim. Jeste, ovome načem. To ne načem, krikaž. Jola, daj, ja ću drugim. A te, ima osam... Vidjeti. Aj, ne, 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 ne. Aj, ne, ne, ne. Pero, Livaj. Aj, da bacim nekoliko ne možda po... Aj, sad je Livo, dobro. Aj, sad je Livo, dobro. Aj, sad je Livo, bruto, brato moj. Aj, sad je Livo, brutalno. Aj, cihalfa jel. Aj. Aj, aj, aj je, aj ja, tudi. Aj, aj ja! Aj, aj. Aj, cihal? Aj, aj, cihal moj maj to, da' ga iznarvirata'. Aj, aj, cihal jim. Ope. Aj? Ma, aj, naj, aj? Eat' gaš previously. Aj. Aj. behavioral thugat, k'jatelyn jo. Aj. Aj, aj, kihoj pa je i화. Aj, jedna ga šestu liči ću? Aj, kihoj. Siamo da guardare. Dobro si Livo! Dobro si Livo! Rope ladno sem la sua lancavo. Dobio internet. Sato inizia. Però, dober Liv. Scusi, tu mi chiede. Scusi, tu mi chiede. Scusi, tu mi chiede. E tu mi chiede. Scusi, tu mi chiede. E tu i tu, moji chęci. Ok, duro agardaria. Lamo uglucimo? Vamo do kraja? Ne moz sie lezeri, bretie. Da uglasas, lezeri. Ni budi jadana. Iglubi. Sta la zora? Adesso mo questo, la tua lotta volta, non lo so. Un paio di 10 mAhio di da tu. Come sei scuso. Sto la cosa? Oh, tu ti chiedi, ragazzi. Di quello che hai visto? Grazie, ragazzi, perché sei l'evo? Perché tu che non ma chero. Di lui, per la tua giù. Cosa mi si gioca Arena Squad? Mi si gioca Arena 3 o Arena Squad. Cosa mi si gioca? Cosa, quando mi giocavo perro... Non so come si gioca. Dada, compi il skin Recon Ranger. Non so. Vediamo cosa è. Cosa. Mi si gioca ok. Non si gioca. Non si gioca. Cosa. Cosa. Toi la coniётo. L'epito. I perto'o. A si giocai. Cosa. I' to a niente di male Lif otro? E' sì. Vitave. Cosa. 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 Si non paio ne ho. Cosa. 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 Sento al network. Sento al finture con la nostra. Use Long Cable... Sento al fort. Sono 2 ping. Quindi, son finture al fort. Ehi, dai! Ok. Ecco, ho fatto per aver scará. Rapacca! P3! lo so che fai? è il mio è il mio il mio è il mio è il mio che fai fatto, di bolo? alo ti sei il mio è il mio PETRE Ok Udo and the time and it's shoot time Oh 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 I need you time I need you time sonics Do we the next new donation New follower I need you time I need you time Do we share Tug 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 tug! Tug 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 no da si brate jedeci crmo alo brate mali janko si se kuret o daka si brate a ti dodiam a ti si sam ja crv pomfrit od pre nedelju dana objasnim si neke stvari o 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 Ma che c'è il pizzo? Allo bre, stai a bo! C'è il pizzo? Ma che c'è il pizzo? Marta! A, Spravo... Sada mi jeme nekazano dobro! Za se što čoke! Spravo dobro! Šta sviđa ovo? Zatrs! Mislim se da sviđa! Spravo, naša! Spravo! Spravo! GORE BIO, PAO I OUGŽE 100% NECO O DAS PIKAPO DA NEMA GO OUGŽE LJAP CHAD LJAP CHAD NEMA VEZE PA ZNAM DA SI GUZO PA ZNO Eto ti mida zdravgan ZOVU ME PAPIČKA LIVA MATEJNO CIGANSKA CRKLI OD RAKA SE RASPALI DA BOG DAS SI MOJKU VAM JEBEM ŠTO MAGAR ME ZOVU No sta, kakav Skype, crni. Ludi, mani svei sbagli. Ludi, biežite, jebote Grappler, neicu ti dat. On je mi dao 150 taktikalom. Aj, mržbre! Jebam vam, pa smaljku, kako da gasim ovaj Skype? Ma, mržbare, u pičku materina. Sad ću da vam jebam sve. Marš bre! Umirem, zovu me, ništa ne čujem! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Grazie a tutti 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 Grazie a tutti